Sono stati premiati i ragazzi della classe Quinta B Turismo dell'Istituto Alessandrini di Montesilvano che hanno partecipato e vinto il concorso nazionale premio Federico Caffè in memoria di Giuliano Colazzilli indetto dallo SPI CGL di Pescara e dall'Associazione Federico Caffè per ricordare la figura del grande economista pescarese scomparso nel 1987. Gli alunni hanno vinto il concorso con un saggio sull'attualità del pensiero e della testimonianza etica di Federico Caffè con riflessioni e valutazioni personali aggiudicandosi la somma di 1500 euro che verranno utilizzate dalla classe per attività culturali. Riconoscimento e in memoria di un nostro compagno Giuliano Colazzilli che è stato promotore della fondazione di questa Università Liberata Federico Caffè e abbiamo quindi voluto istituire questo premio proprio per riconoscere non solo la storia e il pensiero etico di questo illustre nostro concittadino ma anche per dare possibilità ai ragazzi e ai giovani e alle scuole di conoscere fino in fondo questo pensiero che in un momento come quello attuale ritorna di grande emergenza e di grande attualità. Siamo orgogliosi e ignoratissimi di questa occasione di parlare di Federico Caffè, pescarese, abruzzese e ci piace avvicinare questo personaggio ad altri personaggi importanti di Pescara dell'Abruzzo. I nostri ragazzi hanno partecipato volentieri a questo concorso guidato dal professor Troiani e dal professor Pompei che ha scritto anche un saggio sul caffè e quindi i ragazzi sono avvicinati con molto entusiasmo, con molta passione si sono molto impegnati e il risultato di oggi è la conseguenza logica dell'impegno che hanno messo in questa attività scolastica.